Ehi, ehi, cos'è successo? Io sono una persona gentile, non posso abbandonarvi così. Questa ragazza... sta per morire. Vi posso dare il mio sangue. Se verrete scelti dal mio signore, potrete diventare demoni. Adesso... voi diventerete demoni. Potreste far parte delle dodici lune come me. Magari diventere anche delle lune crescenti.